TIK TOK TOK Chi è? Hai mangiato? Ehi! No nonna, non ho bisogno di niente, grazie Salve la gente qui, Gabbi e il vostro Gabibbo ha aperto un canale di TikTok Facciamolo diventare il più grande d'Italia Gabbi 16 bit official, dai! Non ho ancora fatto uscire niente ma voi fatelo sulla fiducia, probabilmente andrò a postarci le intro pazze dei miei video cose del genere, ogni tanto qualche boiata, quindi se volete è lì dai! Gabbi 16 bit official Un milio sub! Uh, ok, questo video mi sembra interessante, vai col primo Ok Spaccare la bedrock in Minecraft Bellissimo Ok, mi è piaciuto Allora, questo gli metto like perché c'è la citazione di Oblivion Stop right there! Stop right there criminal scum! Un ragazzo si è arrabbiato perché è morto su Minecraft Oh! Cosa ha fatto? Tu! Mi hai ucciso tu! Maledetto! Fernando! Ti devo picchiare madre, padre, figlio, sorella? Ti picchio malissimo, Fernando! Riesco a fiutarlo! Cioè, per un gioco è così Mi sa che questo ragazzo ha dei problemi forse in famiglia per far così perché non è normale che uno si arrabbi in questo modo Meglio non presentarsi a scuola domani Mamma mia, cos'hanno fatto? Cos'è sta roba? Che trip! Ok, vediamo Uno spawna Perché ha chiuso un pollo Perché? Cos'è questa tortura? No! La volpe! No! Vediamo questa Ok Ci ha messo Cosa sta facendo? Ha creato una cavolo di televisione! Ma sapete che tutte queste cose le andremo a fare in vanilla, vero? Due, vediamo i migliori seed di Minecraft Ok, quello Vediamo Uh Oh Non è male, guardala Con una fortezza È bello È tutto vicino, anche la mansion Ragazzi, volete il miglior seed? Ce l'hanno dato Gabby vanilla season 2 avrà questo seed Ok, questo fa una casa che è alta solo un blocco Come fai a starci dentro una casa alta solo un blocco? Ci ha messo l'acquario, la sta decorando in questa maniera Queste sono curiose perché sono tutte cose che voglio costruire anch'io poi Sono tutte belle idee da rubagliare Beh, non sta mentendo La casa è effettivamente alta un blocco La sta chiudendo Guarda che basso, sembra una piadina Sembra il cavolo di piadina Dove vivi? In una piadina Adesso il problema è come fai ad entrarci? Vediamo se usa... Ah, con la trapdoor Carino Sei un cavolo di toppino però Ma va bene Oh, questo cos'è? Questo mi fa paura Incontro epico Skeletri Contro iron golem Oh signore Oh signore Vediamo chi vince Porca vacca, guarda Guarda quante frecce Povere pecore che non c'entravano niente I più bei suoni di Minecraft Top 3 Primo Enderman Ok, maiale Numero 3 No Il numero 3 è questo Barbecue in Minecraft Not bad Not bad Bella idea Carino Questo va Nella cesta delle idee rubate No No Ha fatto una casa Dove i villagers Non possono entrare Ma dai È una tortura L'ha trollato Bellissimo anche questo acquario Oh, oh, oh Guarda lì Guarda come si fa Bello Cioè Ma che idee ci sono Cioè su TikTok Trovi le migliori idee Di Minecraft Almeno quello Tu ti dici Oh TikTok Fa schifo Ma TikTok Veramente per i builder È la manna dal cielo Cioè Ste idee Veramente Non le trovi Da nessuna parte Se non su TikTok Con la piantina Al centro Guarda Cioè Dai Che cavolo è Villager Ma sti villager Stanno improvendo Troppo Stanno diventando Intelligenti Sono rank massimo Un cricetto Che gioca su Minecraft Vediamo Vabbè 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 Che carino Ma guarda Che tosto Si sente il re Di questo mondo Tutti hanno giocato a Minecraft Pure il cricetto Ormai veramente Pure gli animali Giocano a Minecraft Tutti hanno provato Minecraft Ditemi una persona Che non abbia provato Minecraft Cioè Secondo me Quasi tutte le persone del mondo Animali compresi Ormai lo conoscono Eh sì Super easy E le pumpkin Se ne sbatte lui Se l'è meritato Se l'è meritato Eccolo Eccolo Mamma mia Aiuto Ho paura di sta roba Ma cosa cavolo è Immaginate Tu entri nel mondo Di Minecraft Normale Senza mod E ti trovi Sto schifo Che ti segue Magari di notte Appena è scesa La prima notte In Minecraft Terza guerra mondiale Non ci credo Aiuto La vendetta dei video Ve l'ho detto Questo è l'ultimo stadio Nella vendetta Dei villager Guarda come si Ci starebbe la musica Dialogua Guardala Ma che cos'è Trudolf Santo cielo Esplodete Maledetti creeper Ok Mette un villager A dormire Lo vuole Lo vuole trollare A scoppio Facendo una rogitaia Che lo butti Nella lava Queste cose le facevo io Un paio di anni fa E mi pento Guardalo Poreto Ma lo trolla Di nuovo I villager Si stanno Stanno diventando Dell'essere supremo Va bene Non ci credo Un ha fatto un ring Con due cose Che si combattono No È bellissima Sta cosa Questa è la più bella Questa è la più bella È la più originale Che abbiamo mai visto Dobbiamo farla Nuovo blocco di minecraft Scoperto Che ca... È una mod È una mod Che fa i blocchi così Mi so Volevo vedere Se c'era Lorenzo Ok C'è Lorenzo Su tiktok Vediamo anche lui Cosa ha fatto Giusto per capire Per vedere un po' Cosa dovrebbe fare Uno youtuber su tiktok Uh Uno su granni Ma ha visto Ci siamo Abbiamo pure No no Lorenzo C'è l'end L'end La mia stessa reazione Lorenzo Vedo che siamo Cugini di campagna Come fai a pensare Che eri salvo lì Lorenzo Ti aveva visto Ah Mamma mia Ti capisco Ti capisco Grande Lorenzo Comunque Aspetta Ti devo lasciare il follow Oh Lorenzo Lorenzo ti ho seguito Mi raccomando Ricambia Mamma mia No No ragazzi Cosa vedo Cosa vedo Ora ho capito Perché molti guardano tiktok Mamma mia Ragazzi Cioè sapete Che io oggi Tipo ho mangiato Pochissimo Quindi Già vedere Tutte ste robe Questa roba Questa roba T'ammazza T'ammazza Però È una morte dolce Vediamo qui Ah puoi glitchare fuori dalla mappa Va bene Ma che trolls Puoi uscire dalla mappa di pighi e trollare tutto Oh Questa è uscita dalla mappa e sta trollando tutti Su infection Tantissimi di voi mi hanno consigliato peratoons Vediamo un po' Hanno fatto fuori il limone È un giallo Ok Sta per arrivare quel bullo di olio Oh no Siamo fritte Santo cielo Cosa diavolo stai facendo Avevo una colica rennale E mi sono preso un volta Ren Ho usato mia sorella come un mocio Ma cosa La mamma non è felice C'è te credo No Oh mamma mia Qua c'è uno che sta cantando sotto la doccia Mentre fa tiktok Arriva un ladro Lo guarda Lui è là con il cellulare E gli dice Non faccio del male persone con problemi mentali Persone normali Ok Io Allora sono una persona normale Che bello Invece Il psicopatico si alza la raccoglie È vero Cioè quando mai Sono normale Oh no Oh no Oh no Non è vero Tranquilli La mamma è appena diventata super saiyan Va bene ragazzi Lo sapete una cosa Io penso che oggi abbiamo visto abbastanza cringe su tiktok Io spero che comunque quello che vi ho visto vi sia piaciuto Abbiamo comunque preso nota di alcune idee di minecraft E ragazzi Il mio tiktok è lì Il mio instagram è qui Anche quello ragazzi Supportatemi Che presto farò uscire qualche boiata anche lì Vi ringrazio per la visione E noi ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao